Dio mio Vediamo che cosa c'è un attimino su Facebook Non c'è niente a vedere proprio Wow La mamma è sempre la mamma Youtuber fit Favij Vabbè Leonardo Icarri alla fine Vediamo Lorenzo devi smettere di stare davanti a questo cazzo di computer Non ti porterà mai da nessuna parte Non ci posso credere Favij ha cambiato tipo di cuffie No 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 bello no no non hai capito Devi prima lasciare un bel mi piace E poi proseguiamo col video Che alla fine non ha senso Aspetta che mi affaccio Non ha ancora cliccato su Senti Non ho voglia di perdere tempo Ah l'hai cliccato Ok Nayan La pappa è pronta E poi Ah l'ai cliccato E poi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.